Miglior accessibilità, ordine e pulizia sono al centro dell'intervento realizzato all'ingresso della spiaggia Arzilla di Fano. Questa mattina gli operai sono arrivati alla conclusione del cantiere che sarà completamente usufruibile a partire da domani. Un camminamento che unirà finalmente in totale sicurezza il tratto che dal ponte sull'Arzilla conduce fino alla pista ciclabile o alle spiagge vicine. È sicuramente un intervento importante che oggi rende la passeggiata fruibile ma anche più pulita ed ecorosa. Tanto che abbiamo previsto anche uno spostamento leggero di quello che è l'area ecologica con un'area sopraelevata di modo che rimane più in ordine. A breve verrà anche poi, primi di luglio, terminata la nidificazione e pulito anche l'ingresso del torrente. Per cui ci sentiamo soddisfatti di un percorso che abbiamo fatto in corso di stagione. Ci rendiamo conto che i tempi purtroppo erano questi ma l'abbiamo fatto con gli operatori, con le associazioni di categoria e con una ditta che veramente si è prestata nel migliore dei modi terminando i lavori con largo anticipo. Per cui un grazie a tutti perché oggi questo è un risultato della città.